Madonna l'eroe, madonna l'eroe! Arriva lui, arriva lui, grida! Grida! Ah, quello che rodi ha. Con il suo gilet, madonna. E' un grande grido. Ah, però sarebbe bello anche prenderci. Porca puttana! Ma perché non muore? Toh. Ciao. Stocca! Eh, grido! Che figlio di puttana che sei garrito. No, no, no! Tocca tuba! Tocca tuba! Ciao. Tocca tuba! Tocca tuba! Tocca tuba! ciao gianni eh vabbè ma fa cagare il potere di gara anche la pistola non è più quella di un tempo come non becca non riesco a mirare ciao non c'è uno con la patca no porca vacca però mi ha fatto data vabbè viene sempre questa mappa ma a me non è assolutamente un problema perché mi piace un casino signor mi hai ben ritrovati in un live commentary notturno ci prendiamo il mio solito set però siamo con le 11 salto e camminatore va bene non ti sento bob non ti sento e si gira madonna è timido top niente facciamo una partitoz dai tanto per stare un po' in compagnia come i vecchi tempi guarda lo scontare la magia una descritta voglia di giocare a questo titolo perché vedo che comunque da quando lo regalano cambiamolo va da quando lo regalano con le patatine merda vedo che la gente lo gioca volentieri cioè è sempre pieno ciao louis louis spett adesso è il cugino di jungle cacca roglie una partitella notturna me la faccio dai devo devo anche continuare outlast ragazzi perdonatemi ma un periodo un po' un po' così non ho una gran voglia di giocare non ho tanto tempo però ragazzi ripeto cacchio mi sta tornando un po' di foga per questo battle però c'ho più foga di rigiocare a questo ma cazzo che di di attendere il secondo capitolo sicuramente si vedranno dei bei numeri in quel in quel diamine di battlefront 2 io non so la posizione dei dobloni lo sapete non ho mai tenuto dietro certe cose curo la gente però sono un medico incredibile donna robocallina ragazzi un ritorno incredibile affermativo sto arrivando si corri però affermativo corri c'è dart vedi che è full vita non l'hanno toccato ok cobra valencia merda no non dico un cazzo qua sono incastrato come eccoli qua ciao doppia madonna ti festo non posso e vabbè i massacri con la pièce eh voleva dai che ti ho visto quando mi eri oddio c'è Luke madonna salvami salvami da Luke faccio gente vabbè ragazzi è partita così amen lasciatemela fare oddio c'è uno dietro rosso grosso cattivo no 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 ah Luke merda ah boh morto posto ciao no bastardo ma il missile vabbè divertente anche fare i massacri i livelli hanno assunto il controllo della stazione a blink disattivatela per funzionare un attacco dei bombardieri alla ISP no no mi sono incastrato con un robocallino madonna chi ci crede che guarda non mi muovo no ne sono incastrato ragazzi porca puttana Connor giù di qua ok fanno il giro sneaky sneaky guardalo lo presse il ricombattimento madonna mi stava facendo un 20-0 niente provo ad avanzare un po' perchè qua mi viene mi scende la wallera puoi morire madonna ah non ha dioxys va bene non è un cazzo distruttibilità madonna di questa mappa ma è veramente forte la TFS merda stardo ti ho ucciso una volta ti ammazzo ancora ecco parami il fu merda eh ma se Luke mi arriva alle spalle mi distrugge guarda questo qua eh vabbè ma dove cazzo spara quel razzo così una partita ho scaldato tutto però attia attia aiutami ma basta merda aia ti ammazzo un altro allora secondo me è meglio scendere qua ragazzi se vogliamo mantenere la vita guarda scendo salutiamo così cosa vado a curare l'arqueda che cazzo è c'era la bagaglia della TAT eh mio ciao Fabian madonna grandi massacri così così a gratis questa questa zona della mappa cioè una delle cose più belle mai viste la storia dei videogiochi questo lo mettiamo qua aspettiamo qualche stronzo camperiamo come se non ci fosse un domani aspetta che ti curo no scusa adesso io metto questa qua può aiutare mi vado a riprendere la TS facciamo il gameplay droide sonda infatti è già ucciso mi prendo questo oh basta ancora ma come 25-1 cioè scendere dalla TS ti conta la morte ma vaffanculo ma che cazzata è una puttanata ragazzi posso dirvelo figa che stronzata no ero 25 poi potevo fare il nuclear vabbè ma conta da nuclear questo nuclear di ATS cioè non è mica giusto i ribelli hanno attivato la stazione a flinca dobbiamo spegnarla aiuto ciao amico aia mi pizzicano c'è qualcuno che mi pizzica e la madonna proteggete il camminatore la madonna ragazzi no no quell'idea il mio compagno no 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 assistenza cos'è il missile a ra... oh ho preso va bene va bene va bene oddio uccellazzo del malaugurio va bene io vorrei avanzare ma c'è lui si però che cazzata ragazzi cioè veramente una cazzata che l'ATS se scendi perdi la vita ma che stronzata è ma vaffanculo guarda io non posso passare guarda che non posso permesso oh no no i nostri informatori riferiscono che la principessa Leila Organa è vicina a voi sparatele a vista vabbè mi metto qua eh sì vabbè io puntavo là comunque ok beh difficile ragazzi spari a ca... oh ma c'è uno qua c'è cosa ho visto quella gioca con l'eroe io gioco con l'ATS cioè c'è il mio robo gallina che cazzo me ne frega no 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 raggio ricerca non mi piace ma dove perché non me lo fa vedere stanno provando ad agganciarli boh non lo so ragazzi non so da dove andò su di qua così mi incazzo eh ma qui non riesco a fare un cazzo sono tutti rincagnati là però basta sono tutto il cazzo vado avanti muori chi c'è qua sotto no stanno sparando a dar brazzo ti aggancia devo aiutarlo abbiamo disattivato il loro APRIC arrivo levi ti stanno agganciando sì ma che palle io non vedo niente sto sparando a casa i ribelli hanno assunto il controllo della stazione APRIC sto cannone non fa più danno muori va muori muori senti dartone vabbè ragazzi passatemi una partita un po' scazzata mi sto annoiando la verità penso sia uno dei gameplay più noiosi della storia un gameplay notturno no assistenza merda si è abbatcato boh adesso non più c'è qualcuno dietro sì ma secondo te ma vuoi che sono tutti i nemesis perché li ho uccisi tu morto qualcuno qua ciao non tostiamo lui 59-0 e 47-1 nooo c'è il problema che mi sta veramente sul cazzo una volta non era così potevi scendere come un punto di svolta quando abbandonavi l'aereo potevi tranquillamente scendere non è che perdevi la vita che cagata figata nuclear DTS dai nuclear falso lo chiamiamo una cosa che non avevo comunque mai fatto se me mi odia la gente ma mi odierai anch'io però io l'avrei già tirato giù dico la verità giro finché non trovo il doblone per lanciararsi per proteggere i nostri camminatori questi qua stanno qua spararmi con il con i blaster normali cioè si sono ritardati non so cosa fare vorrei prendere l'appiativa droide distrutto avevano appena verniciato ahia permesso l'eroe è morto l'eroe ormai lo faccio di ATS non voglio rovinarmi il rat e gli l'hanno rubato no dovevo prendere l'eroe ho tirato troppo la torna me lo merito me lo merito adesso c'ha due morti anche lui un altro che senza eroe senza mai che cazzo sei sono tutti sopra forse vabbè però la prima morte veramente la trovo insensata la trovo insensata va bene non ha senso questo gameplay ragazzi fate finta che non esista ve lo metto così che schifo di partita la stazione è stata attivata dai ribelli dobbiamo spegnerla per sconturare un attacco degli ala Y mamma mia cosa vuol dire utilizzare un potenzialmente un momento giusto nel luogo giusto il camminatore deve essere protetto è rimasto senza scudi no no gli scudi si riattiveranno presto continuate a difendere il camminatore gente devo guardare il radar ragazzi cazzo quanti no madonna con l'APS no morto no no porca troia via grandi azioni di guerra via 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 quanto stiamo 15 0 ok ok no No, 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 no No, 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 no Non sono da nulla d'accordo Ora molto meglio Manca adesso Eh, cazzo Chi è? No, c'è un cecchino che mi mira Mamma mia Ottima No, 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 no Ciobecca, no, 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 no Ciobecca, no Crenic, salvami Dai che sono 22 a 0 Vaca, puttana Vuol nucleare Eh, gliela in cula Mi fotte chi? Quella è la direzione sbagliata Dai, piazzamelo No 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 Uffio via Via, 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 via No Cazzo Mamma mia No 25 a 0 Un cecchino No No, 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 no Ok, morto Posto Assistenza Assistenza No, 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 no Scusa, scusa Scusa Oh, finalmente Dobbiamo disattivarla Per proteggere i nostri camminatori No, figlio di un senso No, invece Ma, manca una, ragazzi Manca una Perfetto Boh Adesso mi prendo anche questo Vaffanculo Madonna santa Madonna Il ritorno Ma Sì, ma non fa kill Sto bagaglio Dai, cazzo La via ti resterà vulnerabile Ancora per un po' Oh Io vado via Avanzare verso le stazioni A Plink Boh Boh Due nuclear Una sera Uno, vabbè Rubato Me l'hanno inculato Un informatore riferisce Che Skywalker Si trova nel nostro quadrante Uscire dai mezzi Non ha mai dato la morte Stasera Gli andava così Vabbè Ecco Guarda chi ti ammazza Guarda chi ti ammazza Giocatore me Il camper di fianco Con l'applic Con il cannone Va bene Va bene così Va bene così